ciao ragazzi ciao ragazze zoom zoom benvenuti in questo nuovo vlog allora questo sì che il vlog del martedì sera annunciato lo scorso vlog che poi è uscito ieri appunto lunedì ma adesso ne comincio un altro è sempre domenica sono le 5 e un quarto io piano piano mi sto preparando da mangiare sapete vi era venuta voglia di mcdonald e qui consegnano a casa ovviamente anche da voi lo so nelle città soprattutto e ho detto ma perché paolino devi spendere soldi insomma perché comunque adesso il mcdonald costa è un menù di cosa 13 euro più la consegna non c'è un euro mi sembra insomma soldini e poi non ero va sana avevo voglia di hamburger allora ho aperto il freezer e avevo due hamburger c'è proprio due hamburger di carne e avevo due patate che avevo preso l'altra volta nello svuoto a spesa e tutto il resto la maionese vegana che mi era arrivata nella degusta box dei pomodorini eccetera eccetera quindi ho detto paolo metti un po di impegno e fatti gli hamburger a casa quindi io qui nel piatto raga ho tagliato già le patatine che poi metterò in frigitrice ad aria le fettine di formaggio che avevo un pezzo di formaggio che poi metterò nel panino e due hamburger che si stanno scongelando questa è la maionese vegana i pomodorini che taglierò dentro il panino volendo raga ho anche la cipolla qua è ancora chiusa guardate ho anche la cipolla nel caso ma non credo perché di sera non non mi va e mi manca il pane però ovviamente io pare a casa non ne ho cioè ogni tanto lo compro però non cerco di rigirarmi ogni tanto lo compro ma preferisco non comprarlo insomma ogni tanto si ecco faccio capire allora mi prendo la farina adesso e mi faccio sapete che facciamo quelle specie di piadina veloce sulla piastra mi faccio la farina faccio quella quella ricettina che sarebbe un cucchiaio di farina un cucchiaio di acqua un cucchiaio di farina e un cucchiaio di per ogni cucchiaio di farina un cucchiaio di acqua questa è la ricetta e per due cucchiai ho dato tre cucchiai di farina un cucchiaino di olio qualcosa del genere adesso preciso non mi ricordo poi un pochino di sale che se si vuole si può anche speziare mi faccio tipo delle piadine si però un po più grosse le metto nel fornetto e quindi faccio i panini faccio i panini per gli hamburger non so se avete capito penso di si poi ve lo farò vedere e le metterò nel mio fornetto questo qua questo qua che tra l'altro devo dare una bella pulita frigidificia d'aria metto le patatine gli hamburger quindi dopo vi faccio vedere il risultato così ho risparmiato soldi ma una cosa più sana perché ve la faccio io con la mia farina integrale mi faccio questi paninetti vi farò vedere tutto quindi cominciamo questo vlog del martedì sera con questo bel sapore speriamo che vengano buoni poi vi faccio vedere tutto è pronti e mangiati cotto e mangiato ci vediamo tra poco benvenuti questo nuovo vlog zoom zoom lo ridico di nuovo sì ci siamo ricominciamo tra l'altro oggi e domenica per moa domani lunedì per moa per voi già martedì sera io avrò già lavorato sarò già rientrato al lavoro che da una parte è meglio perché dimentichiamo tutto e quindi io ho già lavorato praticamente ma non non adesso adesso sì cucino cucino a dopo questo raga è il panetto di di pasta che mi permetterà di fare i paninetti per fare ovviamente due parti per fare poi gli hamburger adesso metto in frigidificia d'aria ho messo già una carta forno metto le patatine gli hamburger così poi piano piano si cuoceranno e farò anche questo che questo è il più veloce però il pane fa velocissimo nel fornetto ho una fame se sentite rumore la frigidificia d'aria che ho già messo le patate gli hamburger ma guardate i miei panini chiamiamoli panini ma adesso poi vedrete questi si cuoceranno ho fatto queste quattro forme si cuoceranno velocemente poi le giro cuoceranno anche dall'altra parte e poi in mezzo ci sarà l'hamburger con tutte le cosine e non vedo l'ora di metterli in forno e di scoprire come verranno ho messo un po di prezzemolo dentro che a me piace tanto e un po di sale e niente di più andiamo a infornare eccoli qua rag non saranno bellissimi però no sono particolari questi sono i miei panini hamburger e questo è il pane che ho fatto io guardate come bello croccante che bel colore che ha e questi sono i miei hamburger vi piacciono adesso faccio una bella foto anzi glielo ho già fatta in realtà eccoli qua buon appetito ma le patatine ecco le patatine che si sono ben cotte però aspettate che mi serve un po più di luce ok vi faccio una bella foto e questo è il mio piatto altro che mcdonald raga ecco qua a dopo buon appetito mentre guardo il replay ragazzi io sto colorando sta diventando sempre più bello comunque veramente anche voi mi avete scritto che è una cosa orribile che i colori non sono arrivati tutti in ordine come nelle foto di amazon solo questi credo ma neanche perché ci sono i verdi come vedete lì adesso io faccio una cosa smonto tutto perché veramente mi dà postiglio e vi faccio vedere come dovevano arrivare e intanto dicevo sto colorando mi sono trovato anche questo che è il tempera matite che con che mi piace troppo perché c'è il contenitore in vetro e l'ho trovato lì nel tra le mie cosine e vi ricordo che ragazzi vi farò vedere in questo vlog perché domani lunedì dovrebbe arrivare questo pacchettino gli occhiali non cambia cambio canale ma non cambia la polizia sono sempre l'erci vi devo fare vi devo far vedere quella cosa quell'ordine che ho fatto su amazon che arriva domani se tutto va bene perché qui non si sa mai ma mi è stata confermata la consegna domani vi faccio vedere questa cosa un acquisto rivoluzionario speriamo almeno adesso io continuo a colorare e prima metto tutti i colori a posto faccio così e poi vi faccio vedere più o meno raga ce l'ho fatto mettere almeno un pochino i colori giusti non è molto facile anche qua vedete c'è un po ecco ad esempio questo deve andare di qua poi mi è sfuggito questo blu che deve andare di là insomma meglio di come gli hanno lasciati loro però dai fantastici adesso li lascio così non continuo a colorare tra l'altro vi faccio vedere come procede ok faccio altri strati qua per arrivare alla fine va bene ok le ho rifatti di nuovo raga l'ultima volta e adesso vanno meglio guardate basta se non li butto tutti in un grosso bicchiere e siamo a posto adesso però stanno meglio che dite io sto continuando e guardate che figata che bello adesso coloro tutto qua dentro a qui mi manca un pezzo mannaggia a più tardi il mio caffè è qua non capivo se è partita la registrazione e poi ho visto i numeri che girano allora siamo online siamo online con una live sono le nove e mezza raga allora il mio amore in questi giorni c'è ora ore dopo ore giorni dopo giorni si sta sta ritornando ai vecchi alle vecchie glorie alle vecchie glorie si si dice così non lo so comunque sì io continuo a rispondere ai vostri messaggi che mi fanno tanta tenerezza c'è tanto felicità tenerezza tanta risata no questa clip no devo rifare tutto aspettate cancelliamo perché non mi è piaciuta allora 1 2 3 2 1 allora ragazzi sono le 21 e 30 di questa domenica io sono qui a casa come potete vedere sto rispondendo ai vostri messaggi che mi fanno sempre piacere le live piano piano stanno stanno venendo visualizzate ovviamente le ho messe perché sono un ricordo perché comunque è utile per il canale e poi perché mi fanno tanto ridere e vi faccio vedere che la roba da stirare che ho preparato per domani mattina perché non c'ho più scuse guardate qua lo so lo so che voi casalinghe e non sarete scioccate e però io butto lì e poi stiro tutto insieme e questa è roba di quanto tempo non lo so domani mattina l'ho messa qui così mi costringerò a stirarla poi mi avete chiesto in tante perché siccome sul canale ci sono tante persone nuove vedendo le piante mi avete chiesto di far vedere le piante le gommine le mia collezioni di gommine ma tutto io come faccio fare vedere tutto c'è quattro anni di vita in pochi secondi insomma farò vedere tutto però molto volentieri l'home tour ogni tanto penso a quello che ho perso ad esempio il video di natale di quando ho aperto i regali del natale con mio amico meno male che voi l'avete visto che mi ha fatto piacere e non c'è più mamma mia da che ci riattrittiamo di nuovo e allora vi farò vedere tutto ve lo prometto chiedetemi e vi sarà dato volete vedere le piante farò orgogliosamente il tour delle mie piante e le mie gommine e vi farò vedere le mie gommine che dire tornerà tutto allo splendore stavo guardando la live di francesca che è in live adesso l'ho interrotta mentre coloravo poi in realtà tra poco voglio continuare mare fuori perché so che sta uscendo la nuova serie credo già la quarta se non sbaglio il primo febbraio quindi mi devo finire la terza quindi mi metto a vedere qua però tanto domani ancora sono a casa posso dormire tranquillamente quindi serata così e boh basta ho bevuto il caffè volevo farmi una camomilla ma in realtà ho bevuto il tè no ma paolo volevo volevo bere una camomilla ma in realtà ho bevuto il tè ma basta ho bevuto la camomilla no non ce la posso fare ho bevuto il caffè raga ci sentiamo dopo e forse domani mattina perché questo paulino non ce la fa più un giorno raga da me e da dino ciao ma come hai dormito guarda come sei tutto spettinato che bello quando io mi svegliavo anche spettinato adesso non ho più niente in testa allora giornata replica in questo lunedì che è l'ultimo giorno in cui sto a casa giornata replica nel senso bellissima sole e macchine ghiacciate ok siamo così come i giorni scorsi adesso io vado a fare aspettate un attimo ecco mi vado a fare colazione cosa molto importante mi aspetta la roba come vi ho detto ieri 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 sera appunto ancora per dire ieri quante volte dici ieri continuerò ho continuato a fare il colore il oddio paulino svegliati ieri sera ho continuato a fare il mandala guardate che bello spettacolare adesso qua c'è un bigliettino perché non mi devo assolutamente dimenticare di fare dei saluti ma prima colazione ragazzi sono letteralmente illuminato dal sole letteralmente guardate la mia magliettina allora mettiamoci a posto allora sono letteralmente illuminato dal sole non ci vedo una cipa lippa ma spero che voi voi mi vediate allora adesso forse è meglio che cambio che mi giro un attimo forse è meglio così raga ma spero spero proprio di sì allora mettiamoci bene io sto vi sto mangiando lo yogurtino bionico dopo aver mangiato insomma lo bevuto il caffè e mangiato le altre cose allora intanto vi devo siamo quasi a mille ve lo devo dire siamo a 950 in questo momento ci stiamo avvicinando oddio ho tolto la cover del telefono un attimo per poi pulirla è gialla raga mi sa che urge amazon va bene e io uso sempre quelle trasparenti che diventano sempre gialle dicevo che siamo quasi a 950 siamo a 950 grazie 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 ce la stiamo facendo mi state scrivendo in privato ancora qualcuno c'è mi arriva un 23 no diciamo 23 messaggi sia al giorno tra instagram e facebook che non mi trovate digitando paolo cian e non trovate più il mio canale che siete molto tristi questo mi fa piacere non che siate tristi però che siete tristi che non mi trovi a troviate trovate però vi state ancora scrivendo questo vi mando il link mi trovate sì perché youtube ancora non mi calcola quindi potete scrivere paolo channel e non non sempre adesso piano piano sta uscendo il canale quindi vi rispondo spiegandovi un poco del successo e mandandovi il nuovo link del canale grazie io devo fare dei ringraziamenti come vi dicevo prima mi sono preso appunti perché sennò mi dimentico con questa testolina che mi ritrovo innanzitutto sono cresciuti gli amici che mi stanno aiutando su youtube adesso vi dirò tutti tutti i nomi spero si dimentica sempre qualcuno in questi casi è un classico tipo quando salutano a sanremo vincitore ringrazio tizio caio e manca sempre qualcuno che esempio che ho fatto praticamente si bello il sole ma un attimo si crescono gli amici che mi stanno aiutando gli amici youtubiani chiamiamoli così adesso vi saluto ma prima devo dare un bacione a luigi e katia katia e luigi in family questo è il loro canale vi invito vi invito andare anche a trovare loro sono veramente una bella coppia fanno tanti tanti video carini hanno una bella storia anche loro vivono vivono allora stanno facendo un passaggio quindi non posso dire che vivono in germania la metà della famiglia vive in germania ma capirete tutto seguendo il loro canale sono molto molto carini e hanno una storia anche bella da raccontare vi invito se riesco se mi ricordo vi metto il link qua cosa che non si fa mai perché tutti si dimenticano di farlo ma io spero di inserirlo comunque katia scritto ganz normal tutto normale e luigi con l'apostrofo s family family scritto in inglese ma ve lo metto sicuro da qualche parte e quindi un bacio katia un bacio a luigi e la loro family appunto vi invito ad andare a trovarli io seguo sempre che buono yogurt bionico quindi mando un bacio a loro li ringrazio perché anche loro mi stanno aiutando e gli do un abbraccio forte chissà se un giorno andrò a palermo a trovarli scrivevo con luigi ieri che non so perché cioè lo so perché perché bellissima la sicilia e palermo ma è una cosa che sento dentro non lo so che devo andare a palermo a in sicilia non ci sono mai stato ovvio che bellissima ecco uno dei motivi è questo però c'è ci sarà qualcos'altro non lo so ma troverò l'amore a palermo chissà noi c'è una cara amica saluto eli mando un bacio che ovviamente lei sarà il primo posto nel senso vado a palermo c'è lei poi adesso posso andare a trovare katia e luigi e visitare la città chissà il problema dell'aereo il mio problema dell'aereo lo sapete ma vedremo io non credo che in treno sia molto fattibile perché perderei due giorni di viaggio raga ma comunque vi mando un bacio di nuovo a loro e iscrivetevi mi raccomando andate a trovarli ecco non ve ne pentirete perché vi consiglio solo canali amici ecco e pucciosi allora e poi dicevo che tanti tanti mi hanno aiutato anche qui mi dimenticherò qualcuno comunque c'è taris la cinica critiche costruttive un bacio anche a lui ciccio la franci facciamo una statua oddio a franci franci scegli materiale marmo ma la statua commemorativa no 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 perché siamo tra di un argomento di solito si le statue si fanno dopo la cia no vabbè franci grazie ti mando un bacio ho detto sì ciccio la cinica critiche taris mi sono scritto gossip grazie gossip anche a te che mi hai aiutato e tante altre insomma tante altre quindi dopo aver fatto tutti questi saluti mi raccomando andiamo avanti così mi sembra di devo usufruire dei consigli che ho dato nel video dei guadagni dell'anno scorso di youtube che dicevo ai piccoli canali io ero piccolo anche prima per carità però adesso ho diventato piccolissimo ma anche se voi siete tutti col vostro amore mi state facendo crescere crescere e crescere dicevo gli davo i consigli su questo video che è online cioè ancora grazie a dio è appena uscito consigliavo ai piccoli canali di non arrendersi quando vedono poche visual quando vedono pochi iscritti perché ci vuole ci vuole tempo io l'altro canale l'ho monetizzato raggiunto una certa soglia ci ho messo un anno e mezzo raga due anni forse non vorrei sbagliare un anno sicuro adesso ovviamente più veloce la crescita perché mi conoscete già ma prima mamma mia e non bisogna guardare troppo i numeri adesso sì io sto cercando di raggiungere questi numeri ma perché ho perso qualcosa raga se no lo sapete ve l'ho sempre raccontato no allora mando un bacio a tutti mi finisco lo yogurt mi aspetta la stiratura e niente ci sentiamo dopo mi raccomando non scappate benissimo eccomi qua raggio non ho fatto ancora niente no ho preparato l'immondizia così la porto giù perché ho visto che ci sono i bidoni hanno messo i bidoni fuori io solo così capisco che passano a ritirare la spaziatura perché il calendario c'è me l'hanno dato nel gruppo del condominio insomma della parazzina come della casa però non lo guardo mai non ci capisco niente e quindi quando vedo i bidoni fuori porto giù e sono a posto ho già preparati e poi raga e poi e poi che bella quella canzone di Giorgia e poi mi sono fatto una listina perché vado da Aldi un attimo allora mi faccio la doccia porto giù l'immondizia vado da Aldi torno metto a posto la roba non faccio non credo di fare uno svolto a spesa perché mi serve davvero poca poca roba e poi ho anche due bottiglie da portare sapete il vuoto a rendere ogni bottiglia di plastica ti danno 25 centesimi l'altra volta poi dà un bigliettino e vai alla cassa e te lo scontano dalla spesa o prendi i contanti l'altra volta ho perso il scontrino sempre in quella settimana che è appena passata un euro e 75 di vuoti a rendere io ho perso ho perso il biglietto mannaggia tanto per va bene ci sentiamo dopo con aggiornamenti questo è il mio piedino ciao mentre guardavo come dicevo prima Katia questo è il blog che è uscito stamattina adesso è molto oddio le mie gambine mi avete visto perché sono andato a fare la doccia youtube per favore dicevo molto particolare adesso il loro alternarsi di lei che è in Sicilia che è la sua parte di blog e poi si alterna con la parte di Luigi che è ancora in Germania poi capirete tutto dalla loro storia se la seguite e quindi è molto bella questa alternanza Sicilia-Germania Sicilia-Germania come vi dicevo sicuramente vi sarei dimenticato qualcuno da salutare non potevo non salutare Michela ovviamente Mimis in family in Monaco in Germany la cara Michela non potevo non nominarla è la mia Vanessa la Vanessa in family tutta perché anche loro mi stanno dando un grande grande supporto è un supporto come facevo a dimenticarli ma sapevo che prima o poi finiva cioè che prima o poi dovevo tornare a dirvi che mi ero dimenticato qualcuno ma perché è impossibile sono siete tanti 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 e va bene potrei continuare ancora ma voi sapete vado a farmi la doccia va che poi esco e andiamo via insieme raga sono pronto per uscire sono le 11 meno un quarto dai ottimo ottimo mi metto ho fatto la doccia mi son vestito tra l'altro mi son vestito vorrei farvi vedere non so se riesco sono vestito con il maglioncino ok proviamo proviamo pantaloni puma da ginnastica maglioncino come potete vedere qui c'ho i pantaloni tuta e ho le scarpe da ginnastica allora non so cosa ho inquadrato sicuramente nulla però ho le scarpe da ginnastica ok vabbè qui si vede il maglioncino i pantaloni la mia panza i pantaloni della puma da ginnastica le scarpe che era una bellissima collaborazione della fitville che è persa per sempre questa era la collaborazione vera che mi avevano regalato comodissime da qualche parte c'era anche il mio codice sconto ma vabbè ok gira volte e vado a fare la spesa ci sentiamo quando ritorno a casa tra 20 minuti mezz'ora eccomi uscito raga e per la prima volta devo dire in questo canale faccio questa passeggiata con voi perché chi mi conosce già quotidianamente almeno due volte al giorno la faccio esco da casa e questa è la strada per andare a prendere gli autobus per andare a fare la spesa io qua vicino c'ho Aldi Lidl Netto un altro supermercato c'ho un hobby c'ho la farmacia la banca il dottore di famiglia tutto c'è anche due panifici cosa c'è poi tedi eccetera eccetera e quindi sono molto comodo qua dove mi sono trasferito circa sei mesi fa ormai credo cinque sei mesi fa e va bene ho portato giù l'immondizia come vedete i bidoni sono tutti fuori quindi adesso andiamo all'Aldi c'ho la listina della spesa non voglio comprare tanta roba vediamo un po' un bel sole si sta benissimo anche se si sente ancora l'arietta fredda del mattino ok ci sentiamo dopo vedete che c'è ancora un po' di ghiaccio sull'erba lì dove c'è l'ombra mentre qua dove c'è il sole è già sciolto ah c'è anche il DM raga qua glielo ho dimenticato ho anche il DM mi sembra stanno dire queste cose che mi segue da dieci anni però visto che c'è tanta gente nuova che mi fa troppo piacere allora racconterò queste cose che per gli altri saranno un po' scontate insomma bene bene ecco questo è l'incrocio lì c'è una fermata del bus da quel lato c'è Netto il supermercato poi Lidl là in fondo c'è Tacco e Tedi eccetera eccetera e qua c'è il DM Aldi e gli altri negozietti era dietro ancora altra roba molto bello molto bello una zona molto comoda e piena di roba sono a 15 minuti dalla città mio luogo di lavoro ovviamente adesso entriamo ad Aldi che è qua dietro so che questi negozi ormai in Italia stanno aprendo come funghi adesso sbuccherà l'Aldi faccio la spesa e ci sentiamo davvero poi a casa che bel cielo raga la primavera si avvicina siamo già a febbraio era Natale due giorni fa e adesso siamo già a carnevale qua domenica ci sono le prime sfilate è incredibile poi Pasqua sbuccherà dietro l'angolo in un attimo mamma mia ok a più tardi ragazzi sono a casa sono le 11 e mezza forse mi vedete un po' sudaticcio e non perché faccia caldo e un po' ansioso ma perché uscendo da da Aldi passando a fianco al DM ho preso una scivolata sul ghiaccio perché c'era la loro grondaia che sgocciolava e c'era proprio una 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 oddio una cosa di ghiaccio una come cavolo si chiama un cerchio piccolino un tondo insomma di ghiaccio io ho messo il piede lì ho fatto un volo grazie a Dio non ho battuto la testa dietro nella vetrina perché era proprio attaccata dove c'è la grondaia che sgocciolava praticamente aiuto non mi sono fatto niente perché grazie a Dio ho messo il adesso rido perché avevo il giubbotto con l'imbottito grazie a Dio non avevo messo l'altra giacca quindi ho solo appoggiato un pochino il gomico adesso ovviamente sto sentendo i dolori raga perché comincio a sentire i dolori ma sono della caduta anche il collo che ho tirato indietro adesso vi prendo subito un ibu perché se no niente ma non ho parola raga quando finisce questo cavolo di gennaio qui il bicchiere è mezzo pieno non si vede più non riesco più a vederlo vabbè comunque non mi sono fatto niente tanto spavento bevo un po' d'acqua mi prendo subito la pastiglia sono appena tornato e raga visto che ho comprato due cosine in più vi faccio lo svuoto a spesa che ve lo metto subito mercoledì domani sera raga mi distraggo un attimo mamma mia e tra l'altro adesso non c'entra niente però mi è arrivata proprio la notifica che è morta Sandra Milo bella vita emozionante felice ha fatto anche lei con alti e bassi aveva la sua età però dispiace sempre veramente una persona carina e simpatica è molto molto brava mi dispiace quindi salutiamo Sandra anche questa notizia va bene sì mi vado subito a scrocchiare due cose per lo stomaco anche se la colazione l'ho fatta alle nove e mezza quando l'ho fatta meglio mangiare ancora qualcosa e prenderlo subito l'ebook subito subito vi aggiorno raga mamma mia vi aggiorno che dire lo metto nel titolo almeno qualcuno non è un clickbait sono caduto nel ghiaccio è la verità ma porca miseria no vi devo dire assolutamente questo che mi sono dimenticato sono entrato lì per dirlo alla cassiera che c'era questa pozza di ghiaccio perché comunque era la loro grondaia era fuori dal DM insomma tutta stizzita mi dice no guarda devi dirlo non devi dirlo a me devi dirlo alle info alla collega reclama lì ma io non è un reclamo volevo dirlo per gli altri clienti mettete qualcosa un cartone che cavolo ne so non era perché non volevo soldi non voglio soldi io ho detto cioè volevo avvisare per gli altri signori per le altre persone insomma vabbè comunque raga vado ragazzi tutto a posto ho girato lo svuotaspesa domani sera mi raccomando corretti a vederlo è venuto carino adesso sono l'una meno 20 splende il sole ho tutto aperto i dolori non ne ho speriamo che la pastiglia anche in prevenzione non me li faccia venire sento qualcosa e soprattutto qua al collo però è normale raga è normale bene passata anche questa mi sono fatto l'insalata con la mia crema di yogurt greco questa qui adesso devo girarla ovviamente ho messo olive come si chiamano il tonno l'insalata lo stavo inquadrando mi sono preso quei due paninetti che ho comprato ma ve li farò vedere domani vi spiegherò che cosa sono e li mangio con l'insalata devo aggiungere ancora un po' di mozzarella una mozzarella vediamo quella che mi scade prima e poi a posto dopo mi lavo tutti i piatti mi rilasso un attimo e aspettiamo quel pacco aspettate che se riesco a ritornare in me il pacco di amazon che avevo promesso lo scorso vlog questo acquisto rivoluzionario arriverà verso le tra le 4 e le 5 di pomeriggio quindi ce la faccio a mostrarvelo e poi a editare per stasera alle 21 quindi vi aspetto più tardi se non ci sono novità ci sentiamo direttamente quando arriva questa cosa che ho comprato ragazzi vi devo dire una cosa non ci posso credere c'era sul mio account google una specie di assistenza che prima non c'era c'era la chat e l'email e c'era scritto un tastino nuovo che si è scritto chiamami io già volevo esultare poi ho detto ma provo a schiacciare chiamami inserisci il numero codice della Germania il mio numero di cellulare invio dico tanto non mi chiameranno mai passa un minuto e ricevo una chiamata ovviamente numeri strani mi risponde una signorina che parlava italiano mi diceva che era collegata dalla Grecia ma ha poca importanza che parlava italiano una persona in carne ed ossa con la pelle con le ossa con la che non ci potevo credere dopo una settimana di email a gente che magari robot non lo so mi ha seguito un po' ha capito il mio caso mi manda dei moduli adesso sull'email sospettando con ansia una nuova strada raga mi ha detto sarà complicato magari difficile lungo non importa una nuova strada intanto noi continuiamo con il mio nuovo canale ovviamente per carità perché non vi voglio fare illusioni però un po' di speranza dopo queste giornate così vi volevo avvisare di questo vediamo un po' se mi arrivano l'email mando tutti i dati speriamo che veramente questa è la vostra energia positiva raga deve finire questo periodo di M bene quindi vi ho detto che mi facevo sentire quando arrivava la cosa il prodottino di Amazon ma questo dovevo dirvelo adesso vi rimando di nuovo al al spacchettamento di Amazon sono pronto stiro raga dopo tanta indecisione se stira prontissimo il mio ferro da stiro quello si i piatti devo lavarli ancora ma ci sarà tempo anche per quello il mio ferro da stiro senza filo che un pochino mi sono pentito però devo dire che funziona ma perché si scarica subito passate un po' il ferro sulla roba e bisogna di nuovo riappoggiarlo qui però però funziona tocchiamo ferro perché basta disgrazie stiriamo a dopo niente Amazon ancora ciao ragazzi allora come vedete sta già diventando un po' buio sono le 4 e 10 ho chiuso tutto perché comunque comincia a fare freddo stanotte fa di nuovo il ghiaccio devo stare attento io sto bene sono dolorante mi fa male il braccio il collo un pochino qua la spalla si qua la spalla ma niente di che ovviamente è normalissimo io ho finito di stirare sono contentissimo ho messo la roba un armadio come dicevo sono le 4 e 10 per quanto riguarda youtube si sta muovendo qualcosa perché abbiamo ritrovato il link del canale quindi ho mandato un form un si un form si chiama un modulo con le cose giuste mi hanno risposto che hanno trovato il canale raga speriamo che nel prossimo vlog o già in questo ma sarà difficile vi darò buone notizie qui continuiamo a crescere comunque raga un canale serve sempre però questa strada che stiamo percorrendo è giusta cioè sembra quella buona vi devo far vedere una cosa perché mia mamma ha aperto il regalo di Paolo e Barbara quando sono venuti qua a prendermi poi ha detto lo prendo ma al ritorno ma poi è rimasto qua quindi ve lo faccio vedere ho già ringraziato loro nei commenti da parte di mia mamma ve lo faccio vedere un bellissimo porta posate l'ho messo qui per farvelo vedere un bellissimo porta posate in vimini insomma in un cestino vedete molto bello con 4 cannovacci dentro che sono davvero carini vi faccio vedere eccolo qua vedete ce ne sono 4 dentro servono sempre è bellissimo e io credo che sia un porta posate si può mettere ovviamente quello che si vuole però mi sembra davvero utile per quell'utilizzo insomma eccolo qua questo è il regalo da parte di Paolo e Barbara per mia mamma raga Amazon si sta avvicinando guardate che là sopra è già ancora ghiacciato incredibile nonostante c'era il sole questo vi fa capire che la notte ghiaccia Paolino Paolino dai vi sto continuando a trattenere in attesa di questo pacco mamma mia dovrebbe arrivare intanto comincio a editare questo vlog se no fra 5 ore deve uscire e poi aggiungo il pezzo di Amazon mi dispiace farvi aspettare ancora un altro vlog non è il caso quindi tra pochissimo oh scusate avevo la mano in mezzo alla fotocamera guardate l'utilità di questo omino qui che sarebbe una piccola pila questo cagnolino altro che omino che mi permette di colorare vedete lo metto qui e mi illumina il posto per colorare guardate quanto è bello è diventato questo disegno quasi finito ed è bellissimo questo non capivo l'utilità ed eccola l'utilità di questo omino è per colorare i mandala però top allora raga è arrivato questo benedetto pacco e qui c'è arrivato quello che avevo ordinato intanto vi faccio vedere che ho finito il mandala facciamo una cosa alla volta guardate che bello con i pastelli è davvero molto particolare mi piace va bene ma mettiamolo da parte lo metto qua sulla sedia allora perché rivoluzionare questa cosa allora adesso ve la faccio vedere intanto vi ho detto che prima ero tutto preoccupato che non arrivasse il pacco che fra 5 ore dovevo andare online il video ma in realtà oggi lunedì il vlog di lunedì è già programmato questo devo metterlo domani martedì sera quindi nessuna fretta in realtà comunque mi siedo vi faccio vedere questa cosa ok che cos'è potrebbe sembrare la scoperta dell'acqua calda ma io ahia il mio collo ma io non sapevo di questa cosa insomma è una stampante portatile termica però stampa i fogli a 4 infatti ho dovuto prendere dei fogli apposta che sono carta termica non so se si può stampare su carta normale raga ma proverò comunque se stamperà anche su carta normale allora sarà veramente una svolta ancora di più allora chi di voi ha una stampante chi di voi stavo dicendo ha una stampante raga a casa stampa i documenti magari stampa le foto che adesso vabbè stampare le foto basta andare in quelle macchinette automatiche con pochi centesimi si fanno io con le stampanti ho sempre avuto dei problemi perché è vero che non costano tanto costano adesso dai 30 ai 60 euro 70 euro si trovano poi bisogna comprare sempre le cartucce finisce il colore si seccano io ogni stampante che ho comprato non mi è mai durata più di qualche mese perché o si rompeva aveva problemi di software non si collegava più non stampava più stampava righe stampava quadretti io mi ero stufato di comprare sempre queste stampanti che poi regolarmente buttavo perché non conveniva neanche ripararle i colori aumentano sempre di più allora io così per caso ho visto questa stampante che non funziona cioè funziona senza inchiostro ovviamente a calore ovviamente solo in bianco e nero per i documenti eccetera eccetera funziona come quelle stampanti piccoline che ho per fare gli stickers che vi ho fatto vedere anche l'altra volta però questa stampa documenti a 4 raga e tra l'altro con la carta apposta e rotoli apposta che ho devo provare non so se sono compatibili può stampare anche etichette adesivi ovviamente tutto in bianco e nero perché va a calore quindi adesso la collego al telefono o al computer si può collegare in tutti e due i modi poi vi metto il link qua se funzionerà perché in questo periodo è mai una gioia quindi vedremo se va tutto bene e vi tra pochissimo ve la faccio vedere allora raga guardate quanto è piccolina che carina dentro c'era addirittura un rotolo il regalo di carta perché può andare a rotolo oppure passare questi fogli che ho acquistato di carta termica mettendolo così lui stampa scusate non stavo inquadrando infilandolo qui lui stampa su questi fogli però adesso c'è già il rotolo dentro quindi poi si starà a strappo guardate come piccolina che carina la batteria si vede che era già carica ok adesso io l'ho collegata all'applicazione del bluetooth quindi stampo un documento di prova vediamo un po' come funziona c'era addirittura il poi vi dico anche i prezzi c'era addirittura il sacchettino per conservarla troppo carino perché è portatile si porta dappertutto il cavetto usb type c guardate e addirittura un adattatore cioè questo qua è fortissimo type c usb un adattatore le istruzioni che comunque non servono e la carta è questa qua c'è scritto il lato che va sotto praticamente va inserita così questo è un A4 e A4 è anche il rotolo adesso stampo e poi ci vediamo tra poco sto stampando una cosa di prova che c'era nell'applicazione raga calendario di gennaio credo o marzo insomma ma è solo una prova poi proveremo un documento ovviamente si possono fare anche le foto ma non vengono come foto con fotocopie eccolo qua e poi si strappa perché questo proviene dal rotolo vedete se metto un foglio dritto ovviamente esce adesso lo strappo e mi ha stampato il calendario di marzo raga incredibile ma che bello ovviamente vedete il colore non va via questa è una carta che c'era dentro poi adesso però voglio provare infilando il mio foglio infilando il mio foglio stamperò un documento un mio documento tipo è perché nei documenti ci sono sempre i dati sensibili quindi proverò un documento fake su scaricherò da google insomma guardate che bello vedete che è proprio preciso si legge bene non è una sponsorizzazione raga vi faccio solo vedere se per caso vi può essere utile per vedere come funziona adesso vado a prendere un documento ok io ho incastrato il foglio qui spero che lo tiri adesso devo vedere un po' come funziona e vado a cercare un documento da stampare la batteria come vedete sta quasi per per scaricarsi si sta per scaricare e comunque ovviamente è arrivato così e poi lo metterò a caricare e volevo dire non fake un documento fax email comunque arrivo subito adesso raga sta stampando con il foglio che ho infilato però da dietro guardate sta stampando è un modulo preso alla posta insomma vediamo un po' se sarà chiaro se si leggerà chiaro vi ricordo che sono sempre comunque fotocopie quindi si infila da dietro il foglio ed esce poi stampato vediamo un po' ok listino prezzi moduli ok devo dire che si legge abbastanza dai vedete ecco questo non si legge bene ad esempio perché è un po' particolare magari ci sono delle opzioni provo a rifarlo vedete è un modulo di poste italiane provo a rifarlo perché magari c'è una modalità più scura ah il rosso non è dovuto alla batteria ma perché ho tolto il rotolo e infilando il foglio da qui adesso vi faccio vedere diventa verde guardate allora infilo il foglio vedete vedete che lei prende è un po' difficile con una mano lei prende il foglio e diventa verde ecco vedete adesso il foglio è pronto per essere stampato e provo a vedere se riesco a farlo un po' più scuro si ragazzi è migliorato ci sono delle opzioni prima di stampare bisogna poi studiarle mi è appena arrivata ma guardate dalla prima stampa dove sopra non si vede quasi nulla alla seconda che ho modificato dei parametri praticamente scegliendo il tipo di carta giusto e guardate la terza si legge già sopra qualcosa di più vedete guardate la differenza tra questo e questo è già cambiato insomma vedete anche qua si legge molto meglio comunque troppo forte sta roba raga comodissima devo solo capire se posso usare anche la carta normale non solo quella termica ve lo farò sapere nei prossimi vlog e anche se posso usare i miei rotolini di carta per fare gli adesivi credo proprio di sì perché ci sono le opzioni con i rotolini di carta più più piccoli quindi ve lo farò sapere adesso questo qua lo utilizzerò sono contentissimo raga una cosa spettacolare vi farò vedere nei prossimi vlog tutto ora sì che posso concludere il vlog del martedì sera raga grazie per l'attenzione vi metto il link della stampante qua sotto io non ci guadagno niente costano un pochino di più di quelle normali ovviamente ma perché non dovete più comprare in chiostro raga sono contentissimo ci sentiamo il prossimo vlog giovedì sera vi mando un bacio un abbraccio un like un commento grazie che li mettete sempre mettetelo anche in questo video vi abbraccio forte vi voglio bene dal vostro paolino ci sentiamo giovedì ciao